Ha voluto rivolgersi soprattutto ai genitori e dagli allenatori più che ai ragazzi, il campione del mondo di calcio 2006, l'ormai ex calciatore Simona Eperrotta, ospite ad Andrea della SD Football Andrea all'interno dell'istituto Colasanto. A più che ai ragazzi mi piacerebbe lasciare qualcosa ai genitori, che il calcio è uno strumento per farli crescere nel migliore modo possibile. Il calcio per me è stata una palestra di vita, sono andato via di casa che ero molto giovane e sono cresciuto attraverso lo spogliatoio. Tutte le difficoltà che ho incontrato nello spogliatoio, nel campo, confrontandomi anche con l'avversario mi hanno aiutato ad essere la persona che sono oggi. I genitori devono capire quello perché poi diventare calciatore è molto difficile, dipende non solo dal talento ma da tantissime cose, quindi loro devono capire che i ragazzi devono fare sport perché è una palestra di vita. L'ex calciatore, ora consigliere federale dell'Associazione Italiana Calciatori, è stato ospite ad Andrea nell'ambito di un progetto federale junior che porta nelle varie città d'Italia la propria testimonianza nel calcio giovanile, progetto al quale ha aderito con entusiasmo proprio la giovanissima associazione andriese, l'Academy Football Andrea, all'opera con la propria scuola calcio. Più che Simone Perrotta calciatore mi ha colpito Simone Perrotta uomo, quindi lui ha sposato questo progetto che è quello dell'IC, di seguire l'IC junior, quindi con la sua umiltà cercherà di far capire qual è la metodologia di lavoro anche nostra della Football Academy Andrea, che è quella di scuola di calcio, scuola di vita. Tra i tanti temi trattati diversi di strettissima attualità da Simone Perrotta, un occhio particolare verso la nazionale di calcio in cui lui è stato protagonista indiscusso per diverse stagioni, ma soprattutto in quello storico mondiale tedesco del 2006. Io onestamente ho visto il primo tempo ieri e sono rimasto piacevolmente sorpreso, mi è piaciuta molto, era da un po' di tempo che non si vedeva una squadra nazionale di club giocare così bene con tutto quel possesso palla, poi il secondo tempo onestamente non l'ho visto ma il risultato è irrilevante anche perché è un amichevole, però io non sono pessimista come la maggior parte della gente, io vedo che in Italia c'è tanto talento, talento giovane, una nazionale che sicuramente è in un momento di cambiamento, i cambiamenti necessitano di un percorso, il percorso è ancora all'inizio e dobbiamo lavorare sicuramente quello che sta facendo Mancini e la federazione in vista degli europei.